diciotto e trentuno radio DJ allora vista mare la nostra postazione a Jesolo Lido al Oro Beach se volete venire a prendervi l'aperitivo e a proposito di aperitivo e comunque di drink sì che giorno è Valentina? Oggi è il tequila a Della! Ma quando esiste il tequila day? Allora il tequila day si festeggia tequila gate no tequila gate allora è no è così tequila day tequila gate tequila gay mischiate come volete tutti e tre una parte di ognuno mischiate e poi questo è l'aperitivo. Allora è una celebrazione nata spontaneamente negli Stati Uniti perché? Perché pian piano si è diffuso così tanto l'uso di bere la tequila che a un certo punto hanno cominciavano a fare dei tequila day finché si sono messi d'accordo hanno detto vai facciamolo il ventiquattro luglio forse perché non c'era altro quindi non scalzava altre feste precedenti allora ho deciso di farlo perché perché l'America è amatissimo ma non è vero sì è vero non è vero stanno arrivando dei mariaggi no vabbè venite pure in qua no vabbè che sogno venti in la sierra morena cielito lindo viene bajando un par di oritos negros cielito lindo de contrabando e se lunare che tiene cielito lindo junto a tu bocà majestina lo cielo di sana di cielito lindo che a mi me tocca come la Ai, 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 canta in New York, perché cantando si allegra, si è lindo, lindo, los corazones. Ai, 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 canta in New York, perché cantando si allegra, si è lindo, lindo, los corazones. Ma che grande, prendi il microfono, Diego, vai là. Oh, ai, 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 canta in New York, perché cantando si allegra, si è lindo, si è lindo, lindo, los corazones. Ma bravi, ragazzi! Ai, 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 canta in New York, perché cantando si allegra, si è lindo, lindo. Uno, dos, tres! Era una sorpresa per te, Diego! Auguri, Diego! Che sorpresa! Ma che meraviglia! Allora, ciao! 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 Chi siete? Noi siamo Los Terribles de Tijuana. Le facce non sono terribili. Allora, abbiamo scoperto ieri che avrebbero suonato stasera dopo le nove, cioè, finisce la trasmissione, Francesco mette, ciocca, mette i dischi qua sotto, e poi appena finisce, parte di là la festa dell'anguria, giusto? Una cosa del genere. Festa messicana con anguria. Stupendo! Ragazzi, ma siete... Ma l'eccellenza. No. La tequila dentro. Ovviamente, ovviamente. Fai un accento messicano che... Del nord, del Messico del nord. Messico del nord. Messico del nord. Ragazzi, siete meravigliosi. Siete meravigliosi. Sorpresa perfettamente riuscita. Vi ringraziamo, vi ricordiamo che è il Tequila Day, eh? Ok. Fatevene carico. Vi aspettiamo giù però dopo. Esatto. Se volete passare a bervi una cosa qua, ci fa molto piacere. E anche noi voi stiamo orrendo dal caldo. Qui dentro non è fresco, te lo confermo. Grazie. Per cui, prego, grazie mille. Siete fighissimi. Molto, molto, molto. Te è piaciuto? No. Da matti, ragazzi, ma che gioia. Sapete che io in un'altra vita sono stato là. Eh, lo so. Ho fatto dei macelli. È stata molto brava l'America, è andata a recuperarli. Abbiamo fatto tutto per farti la sorpresa. Sì, lui stava per sgamare, però non ha sgamato. No, sta... Capivi che... Pensavi... Stai semplicemente parlando male di te. Sì. Quello lo facciamo in altri momenti. No, infatti. E oggi continuo. Non te ne accorgi mai. Proprio oggi te ne dovete accorgere. Ah, grazie. Guarda che belli che vanno di là. Grazie. Grazie. Grazie.